Bordeira, Portogallo, El Garpe, Costa Vicentina, le famose spiagge della costa ovest del Portogallo, tra le più belle e le più grandi del mondo. E qua siamo in una delle più grandi appunto del mondo, insieme a Fighera da Foz, probabilmente, per non parlare anche che il Portogallo ha delle spiagge cittadine tra le più grandi al mondo, tipo quella di Matosigno a Porto. Questa è molto caratteristica perché è gigantesca, parliamo non solo della lunghezza ma anche della larghezza, chiamiamola profondità, è ovviamente fatta da delle dune pazzesche che confinano con un, diciamo, con un po' di, con una palude e con un sacco di verde intorno. Qui vicino c'è anche Praia Duamado, che è una delle spiagge con il più alto tasso di verde in prossima metà della spiaggia. Questo è solo un piccolo inizio della Praia di Bordera. Sono Max Gaetano, sto testando i microcrimi invernali migliori d'Europa tra il sud della Spagna e il sud del Portogallo, sostanzialmente dalla provincia di Alicante, nella comunità valenciana, poi un po' di Mursia, poi la provincia di Cadice, in particolare Ciclana della Frontera, qualcosa in provincia di Granada e Malaga, che sono, tra l'altro, famose per la produzione, una grandissima produzione, soprattutto nella provincia di Malaga, di frutta tropicale. Sembra che il 95 per cento della frutta tropicale d'Europa arrivi dalla provincia di Malaga e il restante della provincia di Granada. Ovviamente parliamo di una delle nazioni più belle al mondo, il Portogallo, in quanto il verde è enorme, non come la Spagna Mediterranea, perché concludendo il discorso dei microcrimi migliori d'Europa, abbiamo anche, ovviamente in Portogallo, la zona di Villanova de Casella, Trattavira e il confine spagnolo. E poi qui, la zona di Carabatera, uno dei microclimi, per microclima intendiamo non solo la temperatura massima di gennaio e febbraio, ma anche la minima. Per esempio, in Italia abbiamo qualcosa di paragonabile, ma lontano, sono le province di Catania e di Palermo, considerando che quella di Catania ha delle massime molto buone, ma c'è anche delle minime non buone, mentre a Palermo c'è le massime un po' più basse, ma le minime un po' più alte. E poi, una grande sorpresa italiana è la zona di Taggia e Arma di Taggia in provincia d'Imperia, la quale ha delle temperature minime, invernali piuttosto alte, ogni tanto anche le massime. Del resto lì siamo vicini alla famosa Concadateca, dove il professor Fazio produce i frutti tropicali più buoni al mondo, con un microclima eccezionale, a ventimiglia, una frazione latte di ventimiglia. Qui siamo neanche a metà del percorso, da dove iniziano le dune e la parte sabbiosa, cioè dalla fine della parte verde, e il mare. Guardate che gigantesca spiaggia fatta di due. 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 dicevamo quindi della spagna che rispetto al portogallo non ha tutto questo grande immenso verde solamente nella zona oceanica della spagna cioè la zona che va da tarifa a cadige c'è il verde in prossimità delle spiagge ma purtroppo tutta la zona della spagna mediterranea parte pochissime eccezioni è immensamente urbanizzata del resto i sindaci di marbella e malaga facevano gara ci andava di più e quindi purtroppo la spagna è una la maggior parte della spagna è un alto piano e quindi la gente è tutta riversata lungo la costa della parte sud ma anche nella parte nord tranne grosse città come madrid che sono nel centro dell'alto piano infatti è la capitale più alta d'europa quindi le eccezioni della spagna che però appunto parte spiagge sull'oceano mediterraneo non ha spiagge così immense a parte la spiaggia delle spiguelta nel delta del rodano in camarga la stessa spiaggia di piemanson sempre in delta del rodano in camarga e la spiaggia del far di vangar nella zona dell'ampolla al delta dell'ebro in spagna quindi ma il delta dell'ebro è una risaia unica a differenza della camarga che è stupenda e altre eccezioni sono le dune a capo di gata e la duna di artola a playa di capo pino zona tra marbella e fungirola e pochissime pochissime altre con verde o con le dune o col verde o con dune verde come quella di artola ma purtroppo la spagna è quasi tutta cementificata in prossimità del mare quindi tanto vale andare a Rimini per vedere le spiagge cementificate mentre le spiagge più belle del mondo probabilmente sono queste qua del portogallo che sono estremamente variegate da quelle gigantesche a quelle con il verde come praia da omado come dicevamo prima che arriva arriva alla col verde che arriva alla sabbia immensamente con alberi e cespugli e tutto quanto ma guardate voi la playa da bordera la playa da bordera che cos'è pensate che rispetto alla spiaggia di figlia da forza è molto piccola la playa da bordera anche se figlia da forza è gigantesca enorme forse è la spiaggia più grande al mondo per la cittadina spiaggia in città eccoci siamo a prossimità del mare del mare dell'oceano e si estende poi questo è l'inizio si estende poi lungamente una volta ho provato a farla tutta che io cammino tanto sulle spiagge ma non sono arrivato alla fine adesso non si vede neanche la fine grazie no grazie 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 costa vicentina